questo attimo fuggente è una gran bella storia d'amore l'amore per se stessi l'amore per l'autenticità l'amore per la propria per il proprio sogno l'amore quindi per la vita signori quali sono i quattro pilastri tradizione onore disciplina eccellenza pubblico da questo spettacolo sicuramente si deve aspettare una grande grande impatto emozionale perché è un'emozione che va nel profondo perché parla a tutti di qualcosa che riguarda tutti e per sempre qui a giordano a foggia c'è una grande accoglienza un pubblico molto attento e partecipe molto silenzioso e rispettoso però anche coinvolto c'è un pubblico che sa di teatro che evidentemente abituato ad andarci e evidentemente anche abituato a guardare cose interessanti o forse più interessato a guardare cose belle e proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva anche se può sembrarvi sciocco o assurdo ci dovete provare un grande abbraccio a foggia al teatro di foggia al giordano ea tutte le persone che amano il teatro e che amano andare a teatro perché questo possa creare un piccolo cambiamento dentro di loro ciao